Di là dal ponte della ferrovia, una trasversa di viale Ripamonti, c'è la casa di Carla, di sua madre e di Angelo e Nerina. Il ponte sta lì buono e sottopassano Treni, carri, vagoni, frenatori e mandri e dei macelli e sopra passa il treno. La scuola di una volta, il suo grembiule tutto di seta vera, una maestra molto bella, i problemi coi mattoni e le case, già dicevano la guerra, Mussolini, la Francia, l'Inghilterra. La scuola di Alenco